anticipazioni tempesta d'amore sabato 19 dicembre 2020 christophe non riesce a credere che arian abbia rotto il fidanzamento per lui si tratta di un malinteso di qualcosa di passeggero disperato confida a team di credere nella colpevolezza di werner è stato l'uomo a manipolare la sua amata un giornalista intanto vuole pubblicare un articolo su una rinomata rivista di cucina avente come tematica la produzione di sidro di franzi e steffen ma il suddetto giornalista è interessato solo alla vecchia società gru con del giovane e lo accusa perfino di frode il ragazzo incredulo nega tutto ma quando è solo con franzi confessa la verità bella si sente provocato da paul e per questo motivo lo sfida ad una gara lucy trova il duello molto infantile il moser è devastato dai dubbi non 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 non